Immaginatevi questa scena, avete appena acquistato il nuovo notebook, vi arriva a casa e non vedete l'ora di metterci le mani sopra. Allora lo prendete, lo tirate fuori dalla confezione, lo aprite, lo accendete chiaramente e vi rendete subito conto che è lento perché sta iniziando a caricare un antivirus che voi non avete richiesto, una suite di office che non avete richiesto e altre applicazioni che non avete richiesto. Bene, se odiate il blotware, con blotware o software blot si fa riferimento a tutto quel software che viene preinstallato su pc, notebook, smartphone o tablet senza che sia stato l'utente stesso a richiederne la presenza. Per quanto riguarda i pc e notebook solitamente si tratta di software antivirus, software di produttività o tool di sistema mentre per quanto riguarda i tablet e gli smartphone la situazione è peggiore perché si va da qualsiasi tipologia di app a videogioco. E tutto quello che volete è un pc veloce e scattante, c'è una soluzione che vi permette di avere in pochi minuti un windows 10 bello pulito. Ho fatto l'esempio del notebook però questa procedura vale per tutti coloro che vogliono una bella reinstallazione di windows 10 pulita come detto in pochi minuti, senza quella procedura che richiede la formattazione prima del computer e poi la reinstallazione tramite pennetta USB. Non sto per svelarvi nulla di super segreto, super complicato, bensì è una funzione di windows 10 già integrata, facile da utilizzare però siccome ricevo molte richieste appunto sul come reinstallare facilmente windows 10 allora significa che non tutti conoscono questa procedura e motivo per cui ve la presento in questo video. Tutto quello che dovrete fare è andare in aggiornamento sicurezza e poi ripristino. Potrete ovviamente anche cercare subito ripristino nell'area di ricerca di windows e velocizzare questa procedura. Successivamente dovete cliccare su altre opzioni di ripristino e poi cliccate su per iniziare. Apro una parentesi, questa opzione è presente già da un po' però Microsoft l'ha spostata nei vari menu. Potrebbe succedere che in futuro decida di spostarla nuovamente però in un modo o nell'altra sarà sempre presente. A questo punto cliccate su avanti e nella schermata successiva vi verranno mostrate tutte le applicazioni che verranno rimosse se continuate nella procedura. Date chiaramente l'ok, il processo continua, in base al computer può metterci più o meno tempo solitamente in 15-20 minuti la procedura sarà ultimata e davanti a voi ci sarà un bel windows 10 pulito come appena installato. Anzi in realtà è meglio perché questa procedura è un pochettino più veloce e se avete già effettuato chiaramente il login con il vostro utente non verranno dimenticate queste le varie credenziali quindi vi ritroverete già loggate all'interno di windows quindi come dire vi fa saltare tutta quella procedura iniziale barbosa e lenta della prima avvio di windows. Ma cosa cambia rispetto alla procedura classica quella che si può attivare tramite reimposta il mio pc? Infatti se l'avete utilizzata qualche volta questa a un certo punto vi chiede se volete mantenere o cancellare i vari file programmi personali. Ma è proprio questa la differenza perché se il notebook ad esempio vi è arrivato con già del software preinstallato il famoso bloatware allora questo reimposta il pc non cancellerà le applicazioni con cui è stato venduto il pc bensì cancellerà tutto quello che voi avete messo dopo. In pratica il bloatware non se ne va mentre con questa funzione che vi ho fatto vedere verrà cancellato tutto. Quindi amici se vi trovate nella situazione in cui avete appena acquistato un notebook che è pieno di software che non volete che vi rallenta il pc dopo aver fatto i passaggi del primo avvio vi consiglio appunto di seguire questa procedura. E anche se vi trovate nella situazione in cui avete un windows che oramai si è rallentato per vari motivi installazione di tante applicazioni che non volete più e via discorrendo avete due vie. La prima chiaramente è quella di formattare tutto e reinstallare da chiavetta nel caso ho fatto un video anche per questa procedura o vi consiglio comunque prima di provare questa nuova funzione. Amici vi ringrazio per avermi seguito spero di esservi stato utile soprattutto ovviamente se non conoscevate questa funzione o se siete capitati appunto su questo video perché la vostra necessità era quella di reinstallare velocemente anche senza particolari competenze windows 10. Vi raccomando dopo questa procedura reinstallate i driver e insomma tutto quello che serve poi per far funzionare correttamente il pc. Grazie per avermi seguito lasciate un mi piace, condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Ciao! Ciao!